Con tre giornate d'anticipo, anche se la matematica è sempre opinabile, cala il sipario sulla possibilità di restare in Serie A2 della Volley Soverato che perde per 3-7-2 in casa contro la Volley Ermea Olvie. Il risultato finale vede le Galluresi vincere per 25-23, 23-25, 20-25, 25-13 e al tie-break per 15-7. È stata una partita veramente entusiasmante, durata quasi un'ora e mezza, dove le aquile tavolarine, come si chiamano, guidate da coach Dino Guadalupe, hanno soprattutto mantenuto la calma nei momenti difficili, hanno affrontato le mareggiate e le hanno superate, cosa che non è successa a un soverato che comunque ha giocato, guidato dal capitano Simona Buffo, da Alma Frangipane, dallo stesso coach Ettore Guidetti, ha giocato a testa alta e a viso aperto, però nei momenti topici ha commesso quegli errori che hanno caratterizzato un po' tutta la stagione, che lo hanno penalizzato. Non nulla è perduto perché tutto può succedere nella Volley finché l'ultimo pallone non cade e non fa punto, però sicuramente oggi il Signorato ha perso una chance importantissima, quasi decisiva, di poter rimanere ancora agganciato al pleno salvezza, che significa arrivare al quinto posto nella classifica della pool salvezza, che comprende dieci squadre. Onore all'Orbia che ha combattuto con lo spirito tipicamente sardo e che ha visto in Laura Partegno, classe 91, un metro e 83, che ha vinto uno scudetto anche in Francia in anni passati, veramente un punto di riferimento nella correlazione muro difesa, nell'andare appunto poi schiacciando. Per il soverato applausi comunque a scena aperta da parte del pubblico che ha capito quanto le ragazze ci credessero, quanto volessero fare bene e quanto, possiamo anche dirlo, sono state sfortunate. Non ultima l'assenza oggi per indisposizione di Giovanna Montero Alcantara e quindi applausi per tutti, vittoria dell'Olbia che probabilmente si è assicurata la permanenza in Serie A2 e ora per il soverato ci da ricostruire, come quando dopo una battuta che tocca il nastro e che cerchi di recuperare devi dare il via a una serie di tocchi che magari sono difficilissimi da compiere. Ribadiamo il finale, Volley Ermea Olbia ha soverato, batte la Volley Soverato per 3 a 2. È tutto e buonasera e ringraziamo Stadio Radio che apre le porte alla Volley anche quando è bellissima ma vede perdere la squadra di casa.